Ok, abbiamo fatto... no, abbiamo trovato la casa per Gwindalina nel scorso episodio, che è abbastanza piccina, piccio, va bene. Ok. C'è il tetto almeno? Sì, c'è l'ho il tetto. Ma che schifo di tetto è? Boh. Tutta, tutta, tutta. Non chiedetemi perché sto facendo ciò. Ciò è canticchiando, va bene, ecco qui. Felice? È fantastico, lo so, è soltanto che c'è il della pietra qui. E non ci dovrebbe essere. Ecco, e adesso? No. Ok, ecco fatto. Casa di Gwindalina. No, il cartello no, non ce l'ho. Andiamo a vedere... Tacchino terzo! Vieni anche tu, su. Vieni. Aspetta. Io sto posto non glielo faccio vedere perché sennò mi ammazzano pure Tacchino terzo. E Gwindalina. Ora... Arri... Entra. No, 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 Gwindalina, no. Gwindalina, tu stai dentro. Tu stai dentro. Vabbè, entra prima il tetacchino terzo. Ok, ora tocca a te, Gwindalina. Vieni. Vai, vai. Complimenti, benissimo. Ora state bene lì e fate quel che volete. Sono a casa. Sei nell'angolino, lo vedo. Wow. Dire che è il momento di uccidere qualche mostro per sport o qualcosa di quello tipo. Comunque voglio prendere anche la mucca. Uh, un enderman. E degli scriveti. Tatara. Tatara. Scappo! Ci siamo perdere. Corri! Caspita, mi seguo ancora! Ah! Wow! Ah! Via! Ah! Si è fatto pure male da solo. E di nuovo? Spam! Dove è sparita? Ah! Mamma mia! Mi ha fatto prendere uno spavento assurdo! Ora ci penso io. Dove sei? Sul tetto. Mamma mia! Ci ho azzeccato! Sì! Ok, l'armatura direi che legge. Per la delen... Per la delen... È sparita. Ok, è sparita. Fra 30 secondi mi ritroverò tipo... No, non funziona. Non funziona! Ok, voglio... Ah, caspita, il letto l'ho fatto, sì. Vediamo un po' dove è la luna e la su. Uh, che... Caspita! Uh, dov'è? Dov'è? Ah, è lì. Allora, vediamo un po'. Sto andando per di là, ok. Quindi voglio mettermi a dormire prima. No, vedo ciò. Eeeh... Spum! S... Beh, ok. Mi sa che questa spada non è molto efficace contro gli scheriti perché gli spara via. Ci sono ancora le cose, sì. Ah, ma le delperi ce l'ho ancora. Mm-hmm. Ti aiuto io, taratata! Mi sa che non ha bisogno di aiuto, però penso che ci sono affatti. Turututu, perla del... Ma perché non funziona? Non lo so. Mi sparisce e basta. Ok. Mamma mia! Meno male che non ci si fa danno quando cade, se lo sarei giusto un po' morto. Ok. Sono una persona spaventa assurda. Allora, devo uscire da qua. Nel male che ho tanta pietra. Stupi la perla del land. Funziona per una volta. Non hai permesso di utilizzarla. Ma dai! Allora che me ne faccio? Vabbè, io esco. Da questo buco. Ok. Eccola lì, la mucca. Dovrò salvarla. Salto della verità! Sono un chiede. Mamma mia, sto ricalma. Un attimo, subito cosa. Ok, sto bene, sto bene. Non sai cosa fare. C'ho un creeper lì. No, no. Sono sbagliato. Ah, io sono uno zombie. Muori! Ci salverò io? Aspetta. Dov'è? Ma! Mi ha dato la testa! Vola via! Vola! Di sotto! Haha! Non hanno possibilità, cosa di me. Fus ro da! Che potenza assurda! Fus ro da! Sbam! Ah! Sbam! 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 È molto utile contro i creeper, ma non lo è affatto contro i scheletri. Perché allontani gli scheletri e poi ti attaccano da lontano, quindi non è efficace. Ok, viene che tu. Muccola. Come ti chiamo, te? Sarei mucca! Tu sarai semplicemente mucca, va bene. Lo prendo per un sì. Dai, andiamo. Coppococco. Ci siamo. Entra. Dimmi che non ti passa. Ci passa! E vai. E abbiamo tre animali. Manca solo il maiale. Ma chi se ne... Ok, voglio mettere un po' di torce qui sopra. Fare una specie di torretta qui, tipo, con soltanto gli animali. No, no, piccolo è più veloce. Questo è di pietra, va schifo, vabbè. Caspita, stanno arrivando zombie da ogni parte del mondo. Ok. Da. Da. Tic. 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 Ok, vediamo qui il centro. Ce ne sta uno. Qui ce ne sono due. Qui ce ne sono uno. E qui ce ne sono quindi due. Eh, è meravigoso. Lo sono, fantastico. Ok, facciamo così, va molto meglio. Ok, voglio fare tipo una scala che ci arriva. Lì c'è una torcia. Allora faccio più in qua, semmai. Ci va una volta. Mi stanno chiamando intanto. Adesso è lì dove raggiungere. Ok. Sì? Segui Mark. Che cos'è? No, non seguo Mark quel coso. Il tizio. Sta sarà un tizio, credo. Ma che è sta roba? Da dove mi è apparsa misticamente? Non lo so. Ok. Oh qua, ma qualcuno mi ha rubato le cose. Eppure so, io c'ho qualcosa che non va. Oh, è quasi notte. Cioè, è quasi giorni. Ma io c'avevo un letto. Oh, io c'avevo un letto qui, un tempo. Ma non è neanche il tempo. Era tipo ieri. Oh, io... Dove è sparito il letto? Vedo poi di questi. Posso prendere... Billy? Ok. Ok. Del rezzo. Ok. Me ne servono altri due di lana. Uno e due. Prendiamo questo. E facciamo il letto. Ok. E adesso dormi! Prima che faccia giorno. No, è già giorno. Vabbè. Ok. Ah, dove è riuscita? Ah, lì. Ok. Risco da qui e vado a raggiungere subito Gwendarina e gli addirizzi. Perché? Comunque questo serve l'arte del loro due. Non ho mai visto nessun altro. E il che va bene. Eh, dimmi. Perché? Puoi crepare. Ah, ok. Ma no. Non credo. Non credo. Proprio. Zalve! Ma non usare quella spada lì. Mi sa che ne hai altre cento, però... Buam! Un ligato di ferro. Vado a mettere nella cesta con le cose di portare. Ah, vuole a fuori fuoco. Eccolo. Ok, metto qui dentro questo. C'è un casino di cose che proprio non sapevo di avere. Ok, qua ci avete tipo le cose più importanti. Tipo queste. Che sono molte. Ho due e tre smeraldi. Non so che cosa me le faccio. Ecco, questa è una cosa intelligente. Un ragno. Devo vedere se riesco a dire... Che caspita ci fa quel ragno lassù con tutta... Quella è sabbia. Non credo che se sabbia sarà sandstone. No, è l'ana? Chi è che ha fatto tutta sta roba di lana? Anche se sabbia è stato un genio. Proprio. Di senso che non l'è stato, vabbè. Non è... Oh, ciao. Sto cercando comunque qualche altro animale. Ho un amico per tacchino che è l'unico macchino che c'è. Va, muori. Oh, grazie. Oh, il letto. Perché ce l'ho ancora nel inventario? L'avevo messo io. Certo che sei, scemo. Te. Ho scritto te. Vabbè. Vediamo che fanno. Uh, ha fatto l'uovo. Vai. Uovo. Oh, no. Mettiamo una torcia tipo qui. E basta. Non c'è altro affare. Voi state qui e fate quello che volete. Ritorno a casa. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Aspetta, che cosa stanno facendo qui? Io l'ho ucciso a pugni. Non so perché. Quindi ciò è il prossimo episodio.